Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateinCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bene vecchi grabani siamo i grandi Io, fra pre, mamma mia Mamma mia guardano la cazzetta là davanti Cappella là dietro Cazzo che squadra è? Il bug in tutta la squadra Con diello, cahile e quello l'altro che dà il truiz Che non c'è faranno passato Te ne spalla Bob Te ne spalla Luis Vai di Maria Vai di Maria Come cazzo ha fatto? Ci riprova no? Azzard! Montacci tua! Azzard! Oh, bello Non arrivi a lui Guarda la tua violenza Guarda Azzard Bella Bella Azzard Azzard No Azzard! 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 Capitano! Capitano di schifo Baxiotti! Era pure magnano Si capitano Ma c'è Vai di Maria Vai di Maria No! Sta un'imente Tranquillo Da solo margola era con il mancino di maria puntino da lì così ma guarda zanzare sacco quando sono stata scattato asale sul filo d'amore azar azare si accetta il cross in mezzo per l'estate affanculo guarda maria stavola donna amare ammazzato che cazzo oa gail rai giovani al soltanto portano per rosso sanitario un gioco un paio per l'arrivo d'arrivo come si è pensata ma non so auguro cazzo bama papa un cuore di euro la sanchez grazie a voi che cazzo però porca buttare sasso il vero voi 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 ma che cazzo sei maniato porca buttata la cazzata io il primo tempo lui ha fatto un tiro giustamente un tiro un gol vai così vai vai va benissimo e la madonna doppio giallo questo è questo è david luiz vabbè mu mi devono staccarmi c'è ma magari non c'è in mezzo non c'è in mezzo ma che cazzo c'è in mezzo c'è in mezzo no 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 c'è che cazzo ha fatto il portiere ma che cazzo ha fatto e la tè bomba caccia so caccia so via caccia so via via doppio giallo se ne va affanculo a casa non gli ha dato il giallo no non gli ha dato il giallo non ci posso creare no 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 posto c'è un'attività di giallo regalo no ma è stato così a me già un giorno sovruttore ma perché non gli voglio farla chi è giurli mamma mia d'ha preso c'è la vendita di valentieri c'è un'attività dai cazzo no no ho fatto un culo non si fa l'intervento fatto bene non si fa non so cosa musicale non so cosa musicale no non ci fa da solo non è che lei va te guarda che merda guarda che pezzo di merda vaffanculo non magari da pure il giallo, ho capito? guarda che pezzo di merda